Benvenuti a un nuovo tutorial sulla consapevolezza sulla sicurezza informatica. Oggi parleremo di CryptoLocker. Che cosa sono i CryptoLocker? Proviamo a definirli. I CryptoLocker sono dei virus, questo è il primo aspetto. Nel 95% dei casi questi virus si diffondono tramite allegati di posta elettronica. Noi apriamo inconsapevolmente questo legato e questo virus parte all'attacco. Che cosa fa? Va a criptografare tutti i dati presenti all'interno dei nostri computer. Che cosa vuol dire criptografare? Va a inserire delle password per rendere inaccessibili tutti i nostri dati. Tutti i nostri documenti Word, tutti i nostri documenti Excel, tutte le nostre fotografie, tutti i nostri gestionali, tutti i computer di produzione aziendali saranno bloccati. Tutto completamente fermo. Non solo saranno criptografati i dati presenti sui nostri computer, saranno criptografati anche i dati che noi collegheremo successivamente. Il consiglio che vi do, se avete un backup su delle chiavette USB o direttamente su degli hard disk esterni, non collegateli a computer infetti perché saranno criptografati anche quei dati successivamente alla prima fase di lavoro di questo tipo di virus. La cosa peggiore è che questo virus non solo blocca i dati nei nostri computer, ma va a bloccare direttamente tutti i dati presenti sulle unità di rete. Dunque bloccherà anche tutto il lavoro dei vostri colleghi che avevano il vostro stesso accesso alle unità di rete. Si fermerà quasi completamente o totalmente l'azienda in cui siete. La stessa cosa potrebbe capitarvi anche in privato. Ma perché succede questo? Perché il virus va a analizzare il quantitativo di dati che è riuscito a criptografare. E perché fa questa analisi? Fa questa analisi perché tutti gli effetti chiederà, in base ai dati criptografati, un riscatto economico. Dunque non esiste un valore che posso darvi, non esistono 3.000, 5.000, 50.000, 100.000 dollari. Tutto dipenderà dai dati che saranno criptografati. Dunque a tutti gli effetti avremo una serie di richieste in base al virus quanto è riuscito a bloccare. Ora farò partire un computer, un simulatore. In realtà è reale, è un simulatore perché è stato bloccato, in cui all'interno è presente uno di questi virus. Io provo ad aprirlo come legato e come vedete dal desktop sembra che non sia successo nulla inizialmente. Vediamo delle icone che iniziano a raddoppiarsi. Ora sì, qualcosa vediamo. Ops, tutti i tuoi file importanti sono stati criptografati. Ma dobbiamo attendere ancora un attimo perché comparirà una nuova finestra, che è la classica finestra del riscatto. In questa finestra del riscatto noi ci renderemo conto realmente delle richieste di questi hacker. Come vedete ora è partita questa finestra in cui vediamo due timer, uno in alto sulla sinistra, che ci indica un conto alla rovescia di tre giorni e subito sotto un conto alla rovescia di sette. E poi delle spiegazioni. All'interno di queste spiegazioni che cosa c'è scritto? C'è scritto che questi hacker ci danno tre giorni per effettuare il pagamento del riscatto, per ricevere il codice che permette di sbloccare i nostri dati. Questo pagamento è da effettuare in bitcoin. I bitcoin, noi non giriamo con i bitcoin in tasca, è una criptovaluta. Dunque per effettuare un pagamento in bitcoin dovete rivolgervi alle vostre banche che vi chiederanno un minimo due giorni di valuta. Ecco perché ci danno tre giorni per metterci pressione psicologica, per effettuare il pagamento. Ma in fondo questi hacker hanno anche un cuore e ci dicono Non ti preoccupare, se non dovessi riuscire a effettuare il pagamento dentro dei giorni, io te ne concedo altri quattro per arrivare a un totale di sette. Ma per questo piccolo favore che ti concedo, ti chiedo il raddoppio del riscatto iniziale. E dunque anche questo è un aspetto da non sottovalutare. In questo computer il valore di riscatto richiesto è di 300 dollari, ma io all'interno di questo computer creato per questa simulazione ho unicamente una fotografia. Vi posso portare l'esempio di un fiduciario finanziario di Lugano che seguiamo, che la sua segretaria di direzione ha aperto uno di questi criptolocker, ha bloccato completamente l'attività aziendale. 15 persone, non 150, non 300, 15 persone. Valore di riscatto richiesto 34.000 dollari. E' tutto incrementale, come vi ho detto, più dati riesce a criptografare, più salirà il valore di riscatto richiesto. Una cosa importante da sapere è che nessuno vi darà mai una garanzia che effettuato il pagamento voi riceviate il codice di sblocco. Questo non perché questi criminali sono pessimi e dunque incassano i vostri soldi e non vi danno il codice. Semplicemente perché per comunicare con voi aprono delle chat sui vostri computer. Queste chat girano su dei siti web. Questi siti web vengono rintracciati dalle polizie internazionali e vengono chiusi, ma non ci fanno un gran piacere perché chiudendo questi siti questi criminali ricevono il pagamento ma non sanno più come mettersi in contatto con noi. E dunque è un'incognita effettuare il pagamento. Vi mostrerò alcune varianti di virus come quello che vi ho mostrato in precedenza. Il primo che vedete in alto sulla sinistra è un virus molto simile a quello che ho scompattato. È sempre un criptolocker, cambia nella grafica, il contenuto è lo stesso, timer ci permette direttamente di effettuare il pagamento. Quello che è comparso ora centralmente sullo schermo in realtà è completamente diverso. È uno dei peggiori che abbiamo incontrato sulla mia strada perché si intrufola nelle reti informatiche, va a bloccare il backup, solo quando ha bloccato il backup va a bloccare tutti i dati presenti sulla rete. Perché fa questo? Perché non avendo neanche più il backup non possiamo tornare indietro alla versione precedente. E dunque siamo quasi obbligati a effettuare il pagamento e il riscatto. Il terzo e ultimo che vi mostro è quello più simpatico che io abbia incontrato sulla mia strada, se possiamo definirlo così, simpatico. Essendo in un periodo di ristrettezza economica anche questi criminali si sono adeguati. E che cosa fanno? Ci danno la possibilità di pagare il riscatto in tre comode rate. Ma fino al pagamento della terza rata non avremo assolutamente i codici di sblocco dei nostri dati di accesso. Per ora vi ho portato unicamente a problemi, però ci sono anche le soluzioni per proteggersi a questi tipi di attacchi. La prima soluzione che vi propongo è l'utilizzo di un sito che si chiama virustotal.com. Ne esiste anche uno molto simile, hybridanalys.com. Che cosa fanno questi siti web? Possono analizzare il contenuto di allegati con oltre 70 antivirus differenti. I nostri computer dovrebbero essere dotati di un antivirus, possibilmente a pagamento e non gratuito. Questo antivirus va a analizzare i dati. Non esiste un antivirus migliore di un altro dal mio punto di vista. Esiste un antivirus che ci ha protetto quando è arrivata con la minaccia e l'antivirus che non ci ha protetto quando è arrivata l'altra minaccia. Però è difficile che un virus possa sfuggire a 70 antivirus differenti. Molte volte capita che un solo antivirus su 70 riesce a identificarli. Soprattutto quando questi virus sono nuovi, perché chi crea questi virus crea ogni giorno almeno tre varianti dello stesso virus per eludere direttamente i sistemi prodotti proprio a nostra protezione. Dunque, se voi aprite questo sito web, potete cliccare per caricare direttamente un allegato. Fin quando voi ricevete un allegato di posta elettronica e non lo aprite, non ci sono problemi. Clicca col tasto destro del mouse, salva allegato con nome. Anche se lo salvate sul vostro computer, non succederà assolutamente nulla. Potete tranquillamente salvarlo e analizzarlo con questo tipo di piattaforma. 70 antivirus differenti. Non ha alcun tipo di costo e non vi chiedono registrazione, perché queste piattaforme vengono sovvenzionate dai 70 produttori leader mondiali di antivirus. Il secondo suggerimento che vi do è quello di non fidarvi mai del nome che compare nella mail. Io potrei iscrivervi in questo momento a nome di Giuseppe Rossi, ma non sono Giuseppe Rossi. Vi basta semplicemente non fidarvi del nome che compare nelle mail, ma fare un doppio clic per scompattare l'indirizzo. In questo modo avete direttamente la possibilità di vedere l'indirizzo mail reale. Nell'esempio che vi ho portato mi è arrivata una mail da Apple. Io ho dei dispositivi Apple. Scompattando questa mail compare iCloud64.constructionid.cloud.com E capiamo subito che non è Apple che ci sta scrivendo, è un indirizzo fittizio che sta emulando direttamente il nome di Apple. E il terzo suggerimento che vi do, che sembra banale ma è davvero molto importante, è quello di aggiornare sempre i vostri dispositivi, sia computer che dispositivi mobili. Perché gli aggiornamenti non sono quella cosa noiosa che vi fa perdere tempo. In realtà, oltre a risolvere tutta una serie di problematiche dei vostri dispositivi, vi permette anche di chiudere quelle falle di sicurezza che vengono scoperte e chiudono la porta direttamente all'entrata di questi virus. Molti penseranno, ma a me non succede nulla, io non ho molto, non verranno da me. In realtà questi virus si diffondono sulla massa e possono capitare a tutti. Perché prima gli hacker entravano dalla porta principale della linea internet verso le aziende. Poi hanno capito che le aziende ormai investono tantissimo in sicurezza e dunque cercano l'anello debole della catena. E l'anello debole della catena siamo noi. E dunque cercano di accedere, bloccare le aziende tramite noi utenti che lavoriamo per loro. In questo articolo di Tio, ad esempio, vediamo la maiera in Tobler, che ha anche sede qui in Ticino, la Mone. Completamente bloccata per oltre una settimana. I tecnici non potevano neanche uscire per l'assistenza perché la merce non poteva muoversi nei magazzini. Tutti i gestionali erano bloccati. Ma non solo la sede ticinese, tutte le sedi della Svizzera. Altro articolo, in questo caso Autoriedi, Mezzovico, con multisedi in Svizzera, anche loro completamente bloccati. E questo che cosa ha permesso di fare? Di bloccare completamente tutta l'attività aziendale. Può capitare a qualsiasi tipo di azienda. A volte è possibile tornare indietro con dei backup molto velocemente e a volte bisogna ricostruire l'intera struttura e servono settimane di lavoro. Nessuno indenne a situazioni di questo tipo. Proprio per questo motivo fate attenzione. La fretta non porta mai dei buoni risultati. Vi auguro una buona giornata.